Lieve aumento dei contagi nei comuni vesuviani. I dati degli ultimi giorni non descrivono una situazione allarmante ma neanche così tranquilla da poter abbassare la guardia e considerare questa pandemia terminata o in via di soluzione. Nel comune di Torre del Greco, secondo il bollettino di ieri sera, sono stati certificati 13 nuovi casi di positività e 8 nuove guarigioni. Continua così a mutare il bilancio dei contagiati con 84 attualmente positivi di cui 21 ospedalizzati. Si registra invece un nuovo caso di contagio a Torre Annunziata a fronte di 17 tamponi processati con l'indice di positività che si attesta al 5,88%. Non ci sono stati invece guarigioni. Sono 13 invece i cittadini di Castellammare e di Stabbia risultati positivi al Covid-19 dal 4 al 17 luglio. Tra i nuovi contagiati una piccola di 5 ed una di 14 anni. Sono stati lavorati complessivamente 1020 tamponi per cui la percentuale dei nuovi positivi rispetto ai tamponi effettuati è all'1,2%. Registrate anche 8 guarigioni tra i cittadini del Comune Stabbiese.